Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, burro morbido, uova, mascarpone, vanillina, lievito per dolci, mezza fiala di aroma di arancia, un pizzico di sale e nutella a cubi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Giuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo le uova ed azioniamo il bimbi per 6 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il mascarpone e lo facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 3. Togliamo la farfalla dalle lame. Aggiungiamo la farina, il burro, il pizzico di sale, l'aroma di arancia e il lievito. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo nei pirottini per muffin. Una volta versato l'impasto in ogni pirottino adesso andremo a mettere un cucchiaino di nutella in ogni muffin. Cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Sono cotti, lasciamo intiepidire prima di rimuoverli dalla teglia. Muffin, nutella e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!